Adesso testiamo il Range Rover Bazzocci gli darà le indicazioni Lombardi mangia il panino perché ormai ha dato troppo prima Ah, eh beh però fia Ah no, non tocca eh Ho preso le misure con le 200 Davanti adesso Una buzzi fobie Hai visto il controllo della trazione con le... non è il blocco eh Guarda eh, guarda, guarda com'entra Sì, sedia Sì, sedia Sì, bella Vieni a sentire Vieni, c'è la barretta Vieni a sentire